Europa 2020, il ruolo del Comune nella programmazione di finanziamenti comunitari. È l'importante tema al centro di un convegno che si terrà ad Ascol Viceno, organizzato da Lanci Marche. Nella giornata in questione verranno fornite tutte le informazioni necessarie alla nuova programmazione finanziaria dell'Unione Europea, che prevede un investimento di circa 31 miliardi di euro nel nostro Paese. Ogni sindaco, ogni amministratore, ciascun componente della classe dirigente di un Comune e di un territorio ha l'obbligo di conoscere approfonditamente quelle che sono le regole e le opportunità di finanziamento dell'Europa. Perché è vero, bisogna giustamente lamentarsi dei tagli, bisogna necessariamente contestare tutte le iniziative che vanno nel senso, come dire, di rendere meno facile la vita dei bilanci comunali. Però noi abbiamo anche l'obbligo di informarci, di andare a capire dove è possibile invece competere con risorse che ci sono. È noto infatti che l'Italia purtroppo ha la maglia nera tra tutti gli Stati europei nell'utilizzo dei fondi che pure l'Unione Europea mette a disposizione. Allora non bisogna solo piangere, bisogna anche attrezzarsi. Da questo nasce il convegno di lunedì 20 gennaio, la mattina e il pomeriggio, che si articolerà su tre momenti. Il primo è un momento riferito soprattutto in collaborazione con l'Anci regionale, sarà presente anche il sindaco di Senigalia Mangialardi, che per l'appunto è il presidente dei lanci regionali, un momento in cui sia la regione che l'IFEL, che è un organismo di derivazione comunale, metteranno in condizioni i sindaci, gli assessori e i funzionari di conoscere, di sapere quali sono le strategie regionali rispetto ai fondi comunitari. A cura del nostro ufficio politiche comunitarie, che abbiamo sviluppato insieme all'associazione Tecla, che è il nostro partner nella gestione dei fondi comunitari, faremo degli atelier, ovvero dei confronti stretti, stringenti, concreti, essenziali, su tre grandi programmi che l'Unione Europea mette a disposizione della comunità su innovazione tecnologica, parliamo di Horizon 2020, su Erasmus Plus e quindi tutto il mondo della mobilità universitaria e non solo, ma anche scolastica in genere, e il terzo elemento è Europa Creativa, il fondo ovvero che finanzia iniziative culturali. Quindi completeremo il discorso con la presentazione di un manuale per i sindaci e per i funzionari pubblici di utilizzo dell'Europa. È un po' la concentrazione di idee che abbiamo elaborato anche come Anci rispetto a questo obbligo di sentirsi marchigiani, ascolari ancora prima, marchigiani, viceni, italiani ma anche europei. Piace o non piace, questo è il nostro destino, viviamo nel modo migliore anche se spesso questa Europa non ci piace. C'è una parte che è giusto che ci piaccia e la parte in cui ciascuno di noi può mettersi in campo per migliorare la propria città.